Nei giorni scorsi in città è stato firmato un altro protocollo di intesa che riguarda il quartiere della Provvidenza. Si tratta di un documento che sancisce una collaborazione tra il comune Nissen e Rotary Club di Caltanissetta per una condivisione di alcuni spazi comunali che si trovano nella piazzetta fuori dagli schemi. Un laboratorio di creatività che permetterà di sviluppare iniziative di promozione dal punto di vista culturale ma anche sociale e non solo. Un'esperienza che potrebbe ripetersi anche in vista di altre proposte da parte di ulteriori realtà del territorio anche in altri quartieri della città. Nella stessa giornata è stato scoperto il telo che celava la targa dedicata al progetto che il club Nisseno avvia in questo spazio all'interno del quartiere Provvidenza, la casa di Polaris, ricordando dunque il nome del fondatore del Rotary International. Condivideremo questo spazio con il Rotary e saremo qui presenti nel quartiere a disposizione della comunità. I rotariani metteranno a servizio di chi ne ha più bisogno. La pandemia ci ha mostrato che stanno aumentando enormemente le famiglie che hanno bisogno di qualunque cosa, non soltanto di un supporto economico ma anche di un supporto morale, di consulenze. Quindi lì i rotariani con le loro professionalità e con il loro tempo si metteranno a disposizione di queste famiglie bisognose, ricolate da parrocchie e da altri enti che ci daranno la mano. Grazie 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 Grazie